E per finire una invenzione che ci giunge fresca fresca da oltre cortina, dove il professor Godesco ha messo a punto il baciografo, infernale macchina atta a rivelare le accelerazioni cardiache provocate alle graziose fanciulle da quell'apostrofo rosa, meglio noto sotto il nome di bacio. Qui la dimostrazione data da alcuni membri della locale università, che a quanto pare svolgono la pratica con disinteresse assolutamente scientifico. Attenzione però, l'intraprendenza di questo giovane ci pare abbia poco a che vedere con la scienza, lo strumento sembra impazzito. Secondo il professore è avvenuto un cortocircuito, chiamalo cortocircuito.